Siamo di fronte a un torbido scandalo politico È una barzelletta Un uomo che sta perdendo molti colpi ed è una difficoltà che crea solidarietà È troppo concentrato Quest'uomo non ha più alcun titolo di credibilità e di dignità Sono decisioni anacronistiche Mi do fuoco in diretta Quando qualcuno lo vede in una trasmissione televisiva di solito ha uno scurgo di bile